Vuoi prendere qualche cosa? Non lo so, il caffè ne ho presi due già e poi uno prende sempre qualche cosa poi alla fine sta peggio di come sta sto bene così Prenditi un succo di frutta e ti fai del bene Mi fa male, mi sento come se mi riempissi Ma che male male? Ti prendi un succo di frutta al mango? Il mango? L'arancia e le vitamine poi mi sono sempre domandato chissà a che cosa serve il mango se serve qualche cosa Non lo sai, ma il mango fa bene sia alla testa che agli organi sessuali Si? Alla testa fa bene il mango agli organi sessuali, possibile Ma hai sentito parlare manca paccappa e manca puccazza Tira Allora prendo un mango puccazza pure a me Allora due mi prendi Due